Siamo con mister Alessio Fantozzi al termine della vittoria del suo Parma Letale contro la Virtus San Giustino. Mister, a questo punto le faccio una domanda scomoda. Siete i favoriti per la vittoria? Questa è una domanda che noi facciamo dall'inizio e anche a vedere la classifica. Il vantaggio che avevamo accumulato era sufficiente per festeggiare già stasera, però ci sono gli alti e bassi di una stagione. Peccato che sono arrivati tutti i stop in partite dove a pochi secondi dalla fine eravamo in vantaggio noi. Quindi c'è un po' di ramarico per quello. Cosa si dovrà fare nelle prossime partite per consolidare e per portare a termine la missione di quest'anno? Vincere. Servirà solo quello perché nonostante i tre scivoloni consecutivi siamo ancora padroni del nostro destino. Basteranno quattro punti nelle prossime due e completeremo l'opera. Perfetto, ringraziamo mister Alessio Fantozzi.